Eccoci ragazzi a fare i giri della ruota della fortuna, primo giro per user, ragazzi vi ricordo che più estrazioni facciamo al giorno, più giri ragazzi facciamo, più regali potete prendere, dipende tutto da voi. Giro per Saretta, andiamo, niente, giro per Salvo Mangia Sushi, Mangia Sushi, lol, andiamo, giro per Cristian Griffo, niente, giro per il Moreno. Eccolo qua, niente, giro per Sanchez, eccolo qua, questi sono solo i giri per gli iscritti, poi arriverà la ruota anche premium degli abbonati. Ok, giro per Itabis. Attenzione, che pelo! Giro per Secret Shadow. Giro per Il Poliziotto 66. Giro per Paddux 10. Attenzione, niente ragazzi, oggi per gli iscritti giornata sfortunata.